Per questa mostra abbiamo deciso di spalmare gli appuntamenti al Tartufo d'Oro uno ogni domenica in modo da avere sempre degli ospiti eccellenti da portare alla corte di Re Tartufo. Iniziamo appunto con Carlo Cracco nel primo weekend che sarà anche quello del raduno di auto d'epoca e poi abbiamo un secondo weekend dove sarà presente Paolo Simoncelli della Fondazione Simoncelli in abbinamento al motoraduno internazionale del Tartufo che è uno degli appuntamenti più attesi dai vadesi e non solo perché richiama in città centauri da tutta Europa. Il terzo weekend invece sarà dedicato alla moda con la presenza di Tommaso Trussardi mentre il quarto weekend sarà dedicato alle storie dei marchigiani che sono distinti in questo anno e alla Fiera del Tartufo che è l'appuntamento che chiude un po' la nostra rassegna. Sarà la prima effettiva mostra nazionale del Tartufo bianco pregiato dalle marche che è completamente formulata dalla nostra amministrazione che è in carico dal settembre dell'anno scorso quindi poi l'anno scorso ci erano delle vicende sociosanitarie particolari che abbiamo vissuto tutti ma chiaramente la nostra amministrazione è entrata quando già sostanzialmente il format era già stato definito in tutti i suoi aspetti. Il movimento che genera in termini di persone, di flusso di persone è molto importante quindi veniamo poi da un periodo particolarmente gravoso per l'attività commerciale, per l'inogastronomia, per i bar quindi è un momento di ripresa speriamo che sia completo a differenza di quello che è avvenuto l'anno scorso delle due settimane, speriamo che quest'anno sia un evento completo di quattro settimane è chiaro sarà sempre un evento in completa sicurezza perché poi non ci dobbiamo dimenticare che distanziamento sociale, meccanismi di protezione individuale, green pass chiaro che l'accesso sarà consentito nell'area della festa solo ai possessori di green pass però ecco speriamo che sia intanto una festa completa di quattro settimane e che comunque dia respiro e dia un ristoro sostanzialmente alle attività economiche locali. Quest'anno abbiamo rivisitato un po' l'offerta dell'organizzazione della manifestazione già partendo dal soggetto che organizza l'evento Chi Appennino un'associazione culturale molto importante che opera già sul nostro territorio e ci piaceva l'idea intanto di valorizzare le professionalità il capitale umano che è presente nel nostro territorio e poi ci piaceva anche l'idea che ci hanno prospettato gli organizzatori di rivisitare un po' il format di tutte le quattro settimane sostanzialmente avremo il premio che è spalmato su tutte le quattro settimane perché gli interlocutori, i soggetti che saranno premiati non faranno una toccata e fuga a Sant'Angelo per ritirare il premio ma vivranno un'esperienza un po' più completa diciamo così.